Tavolo tecnico con forze dell'ordine e responsabili dei comuni interessati per l'organizzazione della tappa montesilvanese del Jova Beach Party. Mentre si attende l'approvazione della commissione prefettizia, si è risolto intanto il problema dello spazio, ovvero dei 30.000 metri quadrati di spiaggia dove dovranno essere collocati il palco e le strutture dello spettacolo e dove sono attesi circa 35.000 fan di giovanotti. Il 7 settembre, data in cui dovrebbe svolgersi il megaconcerto, un tratto di riviera sarà chiuso al traffico e una parte della pista ciclabile dovrà essere alzata a livello del marciapiede. Oltre i 62 auto articolati che accompagnano il tour di Lorenzo Cherubini si prospettano circa 20.000 automobili. Queste saranno smistate tra Pescara, Città Sant'Angelo, Spoltore e San Buceto e dai maxiparcheggi improvvisati partiranno delle navette dirette al concerto. Il 21 agosto sarà la data decisiva per il risponso della prefettura. Nel frattempo il sindaco di Vasto, Giuseppe Menna, che si è visto bocciare l'organizzazione dell'evento, ha scritto una lettera aperta al sindaco di Montesilvano. Da uomo di fede si legge nella lettera prego affinché sia normale ciò che deve essere normale. Da questo evento ne beneficerà tutto l'Abruzzo e oltre alla collaborazione degli uffici del Comune di Vasto sono pronto a impegnare la mia fisicità per dare una mano. Bisogna, conclude il primo cittadino, rendere le nostre città desiderabili per i turisti.